Nei giorni scorsi a seguito di una verifica dei NAS di Palermo sono state accertate delle irregolarità che hanno interessato, hanno coinvolto una macelleria di cani cattì. Vogliamo chiarire una volta per tutte questo fatto, Avvocato Giannello. Sì, ma più che irregolarità c'è stata una grossa operazione a Palermo con la quale nulla abbiamo a che vedere. Si tratta di un grosso deposito dove sono state trovate delle carni in pessimo stato di conservazione e con stupore e amarezza il signor lo giudice non è che ha letto proprio il suo nome e cognome ma indicando via Vanoni a Canicattì si indicava la macelleria inequivocabilmente di proprietà del signor lo giudice. Si dice in sostanza che quell'indagine si sarebbe propagata a 25 macellerie di tutta la Sicilia di cui non si fanno i nomi dei macellai però si indica l'ubicazione dei negozi. Io dico tranquillamente che non abbiamo nulla a che vedere con questa faccenda ma non perché così tutti dicono quando vengono coinvolti nel circuito mediatico. Di questi tempi va contemperato il diritto all'informazione, alla libertà di stampa con il diritto del cittadino a non voler essere violata la privacy specialmente quando nulla a che spazia con una cosa. Perché lo diciamo? Perché non esiste alcuna fattura emessa dal signor lo giudice nei confronti di questa ditta. Dove non esiste assolutamente, scommetto un milione di dollari, alcuna bolla di accompagnamento che possa comprovare un rapporto di qualsiasi tipo tra queste persone e la macelleria del signor lo giudice. E poi una considerazione anche da penalista, se io fossi stato il PM di Palermo penso che la notte stessa in cui sono stati scoperti questi depositi di carne avariata io avrei fatto il blitz in tutta la Sicilia per andare a trovare dove sono andate a finire queste carni. Il signor lo giudice non ha visto ombra di carabinieri o di polizioni tranne i clienti che giornalmente vengono a comprare le carne di ottima qualità che vende normalmente. Quindi né un controllo, né una perquisizione, né nulla. Quindi francamente stiamo provvedendo nelle sedi opportune a chiarire con la stampa che dovrà dare conto e ragione di quello che è successo. Non abbiamo altro diritto al momento. Avvocatone, ovviamente adesso scatteranno le richieste di esercimento danni visto che a seguito di questa notizia apparsa sui giornali il suo cliente ha perso notevolmente nelle vendite. Sicuramente noi faremo tutto quello che è possibile per tutelare l'immagine del signor lo giudice in tutte le sedi competenti. Noi cerchiamo di capire, perché ancora tendiamo risposta, di sapere per quale motivo questo nome, non questo nome ma questa ubicazione sia venuta fuori. Capire se la violazione evidente del segreto istruttorio sia da parte di questo giornalista o sia un'illazione proprio totalmente parto unicamente dalla fantasia del giornalista oltre che di qualche poliziotta che può aver dato questa notizia completamente sbagliata e quindi poi faremo tutto quello che va fatto. Aggiungo pure per assicurare la cittadinanza che questa merce in questo paese non è mai arrivata e quindi chiedo anche che quando si va a comprare la carne richiedere sempre il certificato di tracciabilità delle carni così si possa garantire dove arrivi la carne. Quindi se ho ben capito non è solo la macelleria lo giudice ma anche le altre attività commerciali dello stesso settore della nostra città non hanno mai avuto a che fare con questa azienda. Esatto.